Bene, ho appena fatto un post su Camosho. Camosho è un programmino, insomma un notebook, cioè un modello sostanzialmente che è basato su Lama e che consente di avere dei risultati simili a ChatGP3. Per capire un po' di che cosa stiamo parlando dovremmo andare, praticamente questo è il post che ho fatto, quindi c'è un notebook che adesso vi farò vedere, ma soprattutto c'è praticamente il sito ufficiale Vtab, questo qui di Camosho. Quindi Camosho come vedete è un Italian Instruction Tune Lama, questa cosa qua, e che è un fork di Cabrita, che è un altro pacchetto che è stato fatto, e vi farò vedere come si usa. Allora noi per riprodurlo, per farlo, quindi sono queste istruzioni sostanzialmente, abbiamo bisogno di un esecutore di notebook, questo è un pezzo di notebook, come c'è scritto qua. Ok, per avere un esecutore di notebook decente usiamo Colab, che è un prodotto di Google, e quindi andiamo sicuramente su qui, quindi facciamo un, riconnettiamo il nostro notebook, il link che abbiamo messo in, lo metterò poi in descrizione, qui abbiamo il link appunto, che poi vedrete, e poi vedete che abbiamo sostanzialmente questo, che è il nostro notebook. Quindi una volta entrato nella Cabrita, allora, questo signore qua, il Camosho, facciamo che eseguire le singole celle, quindi facciamo in tempo reale l'esecuzione di questo signore, che vedete che ho premuto play su questa cella, quindi mi installerà i pezzettini, quindi tutta questa operazione ci impiega 3-4 minuti, 5, che magari vediamo se saltiamo un attimo, almeno le parti 13 GB che scaricherete a poco. Ok, prima cella andata, e ci ha impiegato un pochino per eseguirlo, in realtà 1 minuto e 7 secondi, ce lo dice, e passiamo poi alla seconda cella, la seconda cella scaricherà ancora tutto il modello, che sono 13 GB, quindi lo vedremo iniziare, ma lo interrompo, vedete che deve scaricare 33-34 spezzoni. Ok, la seconda cella ci impiega 3 minuti e 9 secondi, è stata seguita, dopodiché eseguiamo la terza cella, che è un po' più rapida, che descrive più o meno come deve fare a fare la richiesta, e poi facciamo finalmente questa, che è l'interessante, adesso vi facciamo vedere un paio di esempi, la quarta cella dove ci imposta praticamente i parametri, gli hyperparameters, che cioè la temperatura, la top P e il 2 min, e a questo punto possiamo anche fargli la domanda, ad esempio nella domanda, quindi premendo questa cosa qua, gli possiamo chiedere, ad esempio, descrivi il... possiamo parlare in italiano, quindi il libro, la fondazione di Asimov, vediamo se la capisce, è la prima volta che gli la chiedo, quindi potrebbe il modello non funzionare bene, ma per fare questa operazione c'è, impiega un po' di RAM, la RAM la vediamo qua, vabbè, ah sì, eccola qua, vedete che sta usando già 8 GB di RAM, però volentieri, quando comincia a fare i suoi mestieri, vedete che aumenta, e aumenta progressivamente, quindi siamo già a quota 8 GB di RAM, ma noi abbiamo su Colab un limite di 15 GB, e vedete che sta crescendo in maniera esponenziale, o comunque abbastanza violenta. La memoria e il tempo che impiega dipende dalla complessità del prompt, quindi adesso interrompo un attimo, ok, non c'era bisogno di interrompere perché tanto aveva già risposto, e comunque se vedete abbiamo una risposta, la fondazione di Isaac Asimov, quindi vedete che ha preso Asimov e l'ha già trasformato in Isaac Asimov, è un romanzo di fantascienza scritto da Isaac Asimov, pubblicato per la prima volta nel 1951. Il romanzo segue la vicenda di Harry Seldon, un matematico che ha sviluppato una teoria che prevede l'imminente distruzione della grazia. Seldon crea la fondazione, un'organizzazione che cerca di proteggere la razza umana dalla distruzione della galassia. Il romanzo segue Seldon nella fondazione, mentre cerca di proteggere la razza umana dall'imminente distruzione della grazia. Ok, c'è un attimo di ripetizione in questa cosa. Adesso noi ripeteremo questa cosa aumentando un attimo la temperatura, quindi portiamo a 0,9, quindi la facciamo diventare più creativa, quindi reimpostiamo questo parametro, e poi gli diciamo di nuovo con lo stesso prompt, quindi questo, e glielo facciamo eseguire. Adesso interrompo la registrazione. Lo rieseguiamo, quindi abbiamo La fondazione di Isaac Asimov, un romanzo di fantascienza scritto di Isaac Asimov, e pubblicato per la prima volta nel 1951. Il romanzo segue la vicenda di Harry Seldon, un matematico che ha sviluppato una teoria che prevede l'imminente distruzione della galassia. Seldon crea la fondazione, un'organizzazione che cerca di proteggere l'umanità dalla catastrofa, e la manzo segue la fondazione mentre cerca di proteggere l'umanità. Ok, più o meno lo stesso. C'è impiegato i 46 secondi. Il risultato, anche se non è molto interessante, è comunque già miracoloso. Abbiamo impiegato 9,7 GB di RAM della GPU, e questa cosa, se vogliamo vedere, è praticamente, l'ho anche usata per delle cose, ad esempio, possiamo anche, non so, chiedere delle cose un po' più, tipo biografia di Asimov. Ok, c'è risposto Isaac Asimov, 1920-1992, è stato uno scrittore di contascienza, biochimico e statua intensa, scritto più di 500 libri, ha vinto 3 premi Ugo e 2 premi Debula. È un po' conciso, molto meno di quello che ci dà normalmente il certo GPT, però possiamo anche vedere se, intanto, quello che ci ha dato è attendibile. Quindi andiamo qua, e quindi controlla le seguenti affermazioni, se sono vere. Adesso non è detto che il chat GPT riesca a, effettivamente, a dire le cose vere, ma comunque, diciamo, può essere usato per fare fact checking. Quindi, innanzitutto, ci dice che le seguenti affermazioni sono vere. ecco, però, dice, ci corregge, giustamente. Ecco, qui c'è stato un errore, perché noi, in nostra applicazione ci ha detto che ha vinto due premi Debula, e quindi, tre premi Ugo e il numero di Debula vinti, R2, ma in realtà quello giusto avrebbe dovuto dire un premio Debula. E quindi c'è un errorino. Però questo errorino, lasciatemelo dire, è, diciamo, secondario, quindi c'è un errore. Tenuto conto che sta girando questa cosa qua su un processore che, come avete visto, ha 13 GB di RAM, quindi più o meno ce l'avreste anche a casa. E 15 GB di GPU, che quindi è una cosa che, volendo si costicchia un pochino, ma volendo si può fare a casa. Quindi questo notebook fatto a casa è una cosa che ha, secondo me, del, come dicevo prima, del miracoloso. Quindi direi che, se avete, appunto, questa attrezzatura, potete lanciarvi, appunto, un sistema di Python con Jupiter, no? O se no, potete usare questi sistemi, appunto, come Colab, oppure anche Paper Space, o altre cose che permettono di eseguire queste cose avendo delle GPU interessanti. E con questo direi che è tutto per il video di oggi. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.